Dal 1921 ad oggi abbiamo perso circa il 20% dell'acqua dolce, questo perché con la crisi climatica piove e nevica di meno, mentre i periodi caldi e sicchi si stanno allungando. Ora, con il Patto per l'Acqua, si comincia a dare risposta a questa nuova sfida. Il Patto per l'Acqua è un impegno che le imprese associate dell'Italia prendono di fronte al Paese per promuovere un incremento degli investimenti. Si passa pertanto da 4 miliardi di anni, che è già una cifra notevole raggiunta con molta fatica in questo decennio, a 6 miliardi di anni. I problemi che abbiamo sono molto complessi. Non è il mestiere dei comuni fare investimenti ad altissima tecnologia come nel settore idrico. In secondo luogo, dobbiamo cercare di promuovere le giuste fusioni fra imprese per raggiungere l'economia di scala. In alcuni casi già abbiamo degli esempi virtuosi, anche senza le fusioni, ma solo con accordi fra imprese strutturate, tipo nel nord Veneto e Lombardia. E da ultimo mettere a disposizione le nostre capacità per gestire la risorsa. Si tratta di un investimento importante, circa un quarto della manovra finanziaria, ma stiamo parlando di una infrastruttura da oltre 100 miliardi di metri cubi d'acqua su 425 mila chilometri di tubature. E il ciclo dell'acqua non si ferma al rubinetto di casa, ma deve arrivare al depuratore per poi tornare pulita nell'ambiente e l'acqua non va in salita.